L'area compresa fra il castello di Bibione e il Borghetto, posta sul crinale collinare in posizione di controllo della bassa valle della Pesa, ha restituito nel tempo numerose testimonianze archeologiche. Oltre alla monumentale tomba dell'Arcere, erano presenti aree di abitato, documentate da frammenti ceramici raccolti nel corso di riconizioni di superficie e almeno un santuario rinvenuto durante i lavori per l'impianto di un vigneto. Lo scavo ha portato alla luce resti di sacrifici animali, ceneri e rieperti ossei, fra cui un teschio di cane, centinaia di frammenti di vasellame in bucchero e un notevole gruppo di bronzetti votivi. Si tratta di offerte che i devoti lasciavano nel luogo sacro, a ricordo del proprio passaggio e a suggello delle richieste fatte alle divinità. Le statuette recentemente esposte nella sezione archeologica del museo rappresentano personaggi maschili e femminili, tutti stanti, nudi, privi di attributi. Essi inquadrano nella produzione schematica dell'Etruria settentrionale fra la fine del VII e il VI secolo a.C., spesso caratterizzata da una stilizzazione estrema, ma che riesce comunque a rendere la varietà e la ricchezza dei gesti rituali. Oltre alle figure umane, è presente un interessante bronzetto di cavallo, un tipo di offerta poco diffuso e sinora raramente rinvenuto in contesto, donato probabilmente in sostituzione del reale sacrificio dell'animale. Infine, un eccezionale documento è rappresentato da una matrice in pietra per la produzione dei bronzetti, priva di confronti. Un oggetto di scarso peso e facile trasportabilità, che poteva far parte dell'attrezzatura di artigiani itineranti fra diversi santuari. Possiamo immaginare che questi oggetti trovassero posto in un'area di culto all'aperto, forse presso una fonte. Non appare possibile, allo stato attuale delle conoscenze, dare un nome alla divinità venerata nel santuario. Tuttavia, il teschio di cane e la statuetta di cavallo potrebbero testimoniare un culto legato a divinità del mondo sotterraneo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS